Grazie Elisabetta, in realtà io non mi sono preparato una presentazione strutturata ma mi sono preparato degli appunti perché intervenendo tra gli ultimi mi sono lasciato una certa libertà di interpretazione della cosa per non ripetere magari oppure per ripetere ragionandoci sopra delle cose che erano già state dette da chi mi aveva preceduto e poi per utilizzare un po' questa occasione che ci viene offerta dalla Fondazione 1563 per riflettere un po' insieme, trovo sia una bella occasione questa nel senso che il fatto di avere affrontato la presentazione del nuovo sistema di comunicazione della Fondazione in una chiave non soltanto appunto di presentazione o celebrativa ma in una chiave in qualche modo dialettica per aprire un confronto oltretutto anche nella sede del Polo del Novecento su cosa vuol dire oggi fare ricerca e gestire i patrimoni culturali con l'utilizzo delle nuove tecnologie del mondo web è una bella occasione e varrebbe la pena utilizzarla proprio come momento di apertura di un lavoro che vale la pena approfondire, vale la pena approfondire perché secondo me siamo in una situazione un po' di transizione, un po' di passaggio in questo confronto con gli effetti della rete, con l'ingresso, gli effetti di internet nella gestione dei patrimoni culturali ma più in generale nell'incidenza che ha negli stili di vita, nei cambiamenti dei paradigmi di riferimento nelle modalità di diffusione della conoscenza, la sensazione è che siamo in un momento effettivamente di passaggio, di passaggio da quella che possiamo chiamare l'informatica umanistica cioè quella che ci ha fatto interpretare l'utilizzo della tecnologia internet come un modo di fare le cose che facevamo in maniera tradizionale in un modo nuovo all'umanistica digitale dove la sfida diventa quella di creare nuove connessioni, quella di creare nuovi scenari, quella di creare nuove modalità di fruizione e di produzione e diffusione della conoscenza. Un po' come quando si vive il momento del passaggio, dell'arrivo del torchio a stampa nella metà del Quattrocento dove quello che accade, l'impatto della tecnologia non è semplicemente un modo di fare le cose precedenti con una tecnologia nuova ma cambiano radicalmente gli scenari. Quello che era il libro prima non è il libro dopo, quello che è la possibilità di sviluppare dei nuovi prodotti si realizza nel corso di alcuni decenni, i nuovi prodotti si portano dietro a nuove professionalità, nuovi bisogni, nuovi scenari di business. Noi oggi stiamo vivendo esattamente una situazione simile nello scenario internet e come nel Quattrocento ci vogliono 50-60 anni perché si definiscano nuovi scenari in questo momento ho la sensazione che siamo nel pieno di questa transizione dove quelli che saranno i scenari che si andranno a definire dobbiamo ancora conoscerli, sperimentarli, in qualche modo costruirli con quello che stiamo facendo nei passaggi che stiamo vivendo. Quindi siamo interpreti e attori di questa grande transizione. La tecnologia di fatto interagisce pienamente con la capacità di sperimentare e inventare nuovi scenari, lavorare nuovi strumenti, nuove modalità di comunicazione, possibilità in qualche modo di produrre un sapere più ampio, di raccontare storie più complesse e più articolate. Lo giochiamo su un terreno dove quindi gli elementi che iniziano a interagire e che vengono a interagire sono da una parte la tecnologia, dall'altra i contenuti sui quali ci siamo già soffermati e in questo passaggio, come dicevo, verso l'umanistica digitale e il contenuto che riconquista una posizione in qualche modo centrale con la necessità di avere però le competenze e le capacità necessarie per interpretare adeguatamente questo ruolo. Il terzo aspetto, tecnologia, contenuti, design, la capacità di creare dei mondi, degli ambienti che permettono di far vivere adeguatamente i contenuti con l'utilizzo delle tecnologie adeguate, la capacità di organizzare queste filiere di produzione in una maniera che sia in qualche modo produttiva ed efficace. Il lavoro dei contenuti diventa un lavoro di raccolta, di selezione, di elaborazione dove per contenuti intendiamo ovviamente tutto quello che è portatore di conoscenze e quindi parlare di multimedialità ormai è quasi inutile, superfluo, è evidente che il testo assume un peso e una valenza che è almeno confrontabile con quella dell'immagine e degli altri supporti di comunicazione video e audio, se non decisamente inferiore, sempre di più l'accesso all'informazione avviene tramite una mediazione che è di tipo visivo e si arriva in un secondo momento all'approfondimento, all'elemento testuale. Costruzione di trame narrative, quindi raccolta, selezione, elaborazione di contenuti intesi nella loro accezione più ampia possibile, capacità di costruire una narrazione, una narrazione che Andrea ha usato il termine storytelling in sottovoce e approvo molto questa scelta perché il termine storytelling così come diceva Vitale all'inizio del suo intervento c'è una forte perplessità nell'aspetto della comunicazione urlata, storytelling non mi piace più tanto perché prescinde dal documento, l'origine e l'uso del termine storytelling tipicamente nel mondo del marketing è un contesto, è un uso che non tiene conto del documento. Quando ti chiamano per fare un intervento, un'operazione di storytelling, di comunicazione basata sullo storytelling spesso ti trovi a dire mondo delle aziende, spesso ti trovi a dire scusi ma dove possiamo attingere la documentazione non ce n'è bisogno, glielo ho già raccontato io quello che mi deve raccontare, devo solo mettermelo in bella, questo è lo storytelling. Preferisco usare, preferiamo probabilmente nei nostri contesti parlare di story making dove quindi il rapporto col documento ha un suo significato, un suo peso e la narrazione viene costruita da un montaggio di documenti dove in alcuni casi è proprio la costruzione di una sequenza di documenti che ti permette di costruire una narrazione e di dare un'efficacia anche empatica, emotiva, drammatizzante nella costruzione del racconto attraverso l'utilizzo del documento. Tutto questo porta dietro una esigenza di affinare delle competenze che sono fondamentalmente di natura tecnica e quindi una capacità anche per chi viene dal mondo umanistico di interagire con competenza con i tecnici, capacità di natura editoriale dove si tratta di recuperare quelle che sono delle tradizioni, dell'editoria tradizionale e capire come possono essere portate e traghettate nei nuovi contesti senza replicarle uno a uno ma sapendole reinventare all'interno di un contesto che non è più quello del libro tradizionale ma quelle competenze che richiamano anche la cura del particolare, gli aspetti di cura formale eccetera eccetera, secondo me varrebbe la pena non perderle. Il design lo abbiamo già detto, l'aspetto del management progettuale, la capacità di tenere le fila di un'organizzazione di un lavoro che spesso anche per il fatto che vede interagire attori molto diversi, in gruppi di lavoro diversi ha una sua complessità e di conseguenza importanza. Il riferimento di tutto questo lavoro sono poi gli ambienti, la rete è un ambiente in cui accadono cose ho appuntato, accadono cose perché c'è della gente che si muove nella rete, perché tutto quello che facciamo deve fare riferimento delle comunità, delle comunità attive in cui si sviluppano pratiche partecipative. L'interazione diventa quella non con un pubblico generico ma con tanti pubblici che dobbiamo avere l'attenzione in qualche modo di mettere a fuoco e porci il problema di come intercettarli. Intanto i professionisti, i professionisti della gestione del patrimonio, i professionisti della ricerca. Benissimo andare verso i nuovi pubblici potenziali e sono uno che su queste cose ha insistito almeno da un quindicennio, da quando ho iniziato a occuparmi di cose di questo genere. Nello stesso tempo non perdiamo comunque l'attenzione, il focus su quelli che devono essere i primi nostri utenti, cioè quelli che usano gli archivi, che usano le carte, che è bene che magari tornino ad usarle più di quanto non hanno fatto nel corso degli ultimi tempi perché certe mie esperienze mi fanno dire ad esempio che gli storici vanno meno in archivi di quanto non andassero un tempo perché l'archivio è faticoso, perché l'archivio vuol dire scendere in miniera, vuol dire fare un lavoro di scavo impegnativo che noi dobbiamo cercare il più possibile con l'utilizzo della tecnologia di agevolare e aiutare, abbiamo visto con l'intervento di Alice quanto questo può essere utile ed efficace ma nello stesso tempo va in qualche modo sollecitato e ritenuto presente. Mondo della formazione, mondo universitario, mondo della scuola. Mondo della scuola avete già fatto riferimento, avete già fatto riferimento alle esperienze di scuola lavoro? Per me nel corso dell'ultimo anno e mezzo, ultimi due anni mi è capitato di confrontarmi con esperienze di scuola lavoro, con lavoro nelle scuole, con lavoro con insegnanti, ad esempio un corso di formazione che è stato organizzato dall'archivio della Presidenza della Repubblica per gli insegnanti romani, sono state esperienze interessantissime dove per la prima volta uno parte dal presupposto, noi facciamo siti e quando facciamo siti ci poniamo il tema del pubblico e immancabilmente il nostro target di riferimento è il pubblico della scuola, il mondo della scuola. Ecco, quelle giornate passate in presa diretta con 78 insegnanti dicendo adesso siete voi che mi dovete parlare e dire quello che è il risultato, come interpretiamo, in che modo interpretiamo in maniera efficace o inefficace, quali sono i problemi con i quali vi confrontate voi di fronte agli scenari che noi vi proponiamo, sono state esperienze interessantissime e tra l'altro ti aprono anche degli scenari di interpretazione sui quali poi torno tra breve. Altri pubblici che dobbiamo ben tenere presenti, gli interessati alla fruizione dei contenuti culturali di qualità, il pubblico generalista interpretato come quel pubblico che i nuovi pubblici potenziali verso i quali sicuramente con iniziative anche di invito alla scoperta dell'archivio dobbiamo in qualche modo puntare e l'invito alla scoperta può essere fisico, può essere sollecitato da una comunicazione web che porta al contatto fisico, può essere anche sviluppato attraverso una cura nella presentazione della parte editoriale dei nostri siti che in qualche modo porta a scoprire questo mondo. Tutte le volte che noi portiamo qualcuno che non sa di archivi, non è mai entrato in un archivio a visitare uno dei nostri istituti la reazione che spesso abbiamo è quella della sensazione di svelare dei mondi, di aprire degli scenari che risultano del tutto inattesi e fortissimamente comunicativi, per cui su questo lavoriamo nei contesti web così come nei contesti fisici. Non ultimo tra i pubblici che penserei di non dimenticare, segnalerei di non dimenticare l'utente macchina, nel senso che il pubblico che ci deve stare molto a cuore è lo spider del motore di ricerca. Quindi quel pubblico lì ci serve per tutto il resto. Essere in rete vuol dire essere recuperabili in rete, essere visibili in rete. Un lavoro che stiamo facendo adesso, dopo che siamo andati online con i nuovi siti della fondazione, è quello di lavorare alla creazione di contenuti che siano adatti per un'indicizzazione per i motori, particolarmente curati per un'indicizzazione per i motori di ricerca, quindi l'attività di SEO. Stiamo già vedendo i primi risultati, queste cose qui vale la pena tenerle ben presente e monitorarle, conoscere lo strumento con il quale si ha a che fare, cioè questo benedetto spider di Google, stargli dietro, dico Google perché comunque copre il 98% del mercato italiano, soprattutto su quelli di quello dobbiamo preoccuparci. Stargli dietro perché è il buon gusto di variare sistematicamente le sue 94 variabili con le quali definisce i criteri dell'algoritmo, parte pubblici, questi criteri parte privati, parte tecnici, parte relazionali. Su quelle relazionali è bene che teniamo comunque un'attenzione. Torniamo ai due contesti. Fondazione 1563 ci permette di riflettere su, trovare a fare il punto su internet e la ricerca, internet e la gestione e valorizzazione dei patrimoni culturali. Ricerca. Ricerca, su questo terreno abbiamo iniziato un po' a ragionarci anche con la fondazione. Ricerca oltre che ricerca intesa come abbiamo visto con l'intervento di Alice, quindi del ricercatore che utilizza il web per condurre una sua ricerca che su questo ritorno è stata definita solitaria. Ecco, c'è uno scenario di ricerca sul quale mi interessa portare l'attenzione che secondo me è una roba sulla quale dobbiamo lavorare ed è tutt'altro che solitario. Cioè l'utilizzo del web, l'utilizzo delle piattaforme per costruire gruppi di ricerca, per condividere elaborazioni di ricerca, per condividere documentazione, per fare in modo che gruppi di lavoro che sono distribuiti non necessariamente nello stesso luogo possano elaborare conoscenza. Quindi non lato comunicazione in questo caso, o meglio non solo comunicazione, ma lato strumento di lavoro. E questo secondo me è uno scenario interessantissimo su cui in ambito umanistico si è fatto ancora molto poco, mentre invece vale la pena assolutamente rifletterci. Dopo ho voluto portare un case history che secondo me è interessante da questo punto di vista perché ci fa vedere come si possono ottenere dei risultati, come ci siano delle esperienze in giro che vanno in questa direzione e possono ottenere dei risultati interessanti. Quindi internet, il web come piattaforma di lavoro che permette di condividere documentazione, di raccogliere, di seguire le fasi di sviluppo di un progetto, di produrre e di lavorare stati di avanzamento del lavoro, di predisporre i contenuti in modo che siano già confezionati e pronti per essere poi rimontati contenuti liquidi, singoli elementi che rimontati possono produrre, realizzare prodotti di tipo differente, possono essere estratti per realizzare prodotti tradizionali, però essendo già strutturati, prodotti editoriali tradizionali, però essendo già organizzati in una maniera che rende più agevole i montaggi successivi, possono essere organizzati per realizzare dei prodotti web. In questa direzione ad esempio abbiamo già avviato una sperimentazione con la fondazione per organizzare i materiali in funzione della realizzazione di una mostra virtuale dove gli elementi, i documenti raccolti per la realizzazione di alcune attività di ricerca piuttosto importanti che hanno accompagnato in questi ultimi anni l'attività della fondazione dovrebbero essere predisposti per poter poi arrivare ad un'uscita che è una mostra virtuale che sarà messa online prossimamente legata al progetto programma barocco. Questo tipo di approccio fa uscire da quella sensazione di solitudine e ci riporta a un concetto fondamentale, cioè quello di comunità. Costruire delle comunità che sono anche comunità di ricerca di ricercatori, di persone che approfondiscono un tema condividendone percorsi e risultati. In questo tipo di approccio abbiamo puntato molto ad esempio anche nella costruzione di una percezione del sito programma barocco dove, se avete visto, se andate ad esplorarlo, l'approccio è molto quello di mettere in primo piano le persone, di rappresentare tutti quei docenti, quei ricercatori, quei collaboratori, quei tutor che lavorano all'interno dello sviluppo di questo programma dando un senso di comunità al lavoro. E credo sia stata una delle cose che sono state particolarmente apprezzate in quel tipo di approccio. Abbandoniamo il tema delle ricerche e passiamo a vedere viceversa la gestione del patrimonio. Gestione del patrimonio, in particolare il patrimonio archivistico, perché di questo si tratta nel caso della fondazione e dei lavori sui quali stiamo ragionando. Specifico dell'archivio si porta dietro alcuni problemi specifici, credo. Dei problemi di tipo valoriale, e su questi torniamo dopo, dei problemi di tipo tecnico. La modalità di accesso alle informazioni dei patrimoni archivistici è indispensabile padroneggiare e conoscere per utilizzare, per muoversi nel patrimonio archivistico, è quanto di più lontano da quelle che sono le modalità di approccio che si sono affermate con la ricerca sul web. La stringa di Google è l'esatta antitesi dell'approccio per contesti delle strutture gerarchiche con cui si accede alle informazioni nella gestione di un patrimonio archivistico. E con questo dobbiamo in qualche modo fare i conti, se non altro essere consapevoli. C'è anche un problema di linguaggio, nel senso che il linguaggio tecnico archivistico non necessariamente va tanto d'accordo con il linguaggio naturale, anche nei piccoli dettagli. Ad esempio in un progetto che stiamo seguendo in questo momento, di restyling del sito dell'archivistato, ci siamo posti il problema nei primi livelli di navigazione, nei menu di navigazione, di eliminare termini anche che per noi sono quasi banali, come fondi, come inventari, come soggetti produttori, facendo magari delle piccole modifiche. Il fondo ne parliamo poi quando siamo dentro. Parliamo semplicemente di archivi perché questo ci semplifica il lavoro di primo approccio e soprattutto battiamo sull'idea di far capire che cos'è un archivio, sapendo che la stragrande maggioranza degli utenti non ha bezzi, non hanno l'idea chiara di archivio. Allora su questo accompagnarli a capire effettivamente che cos'è l'archivio, anche con un'attenzione di tipo linguistico, dove su questo termine ribattiamo con una certa insistenza. Soggetti produttori, perché non chiamarli produttori di archivi? Il concetto è lo stesso e ribatti su quel termine che a noi interessa marcare. Dicevamo, la ricerca, gli stili di navigazione abituali non sono esattamente l'ideale per muoversi nelle nostre strutture gerarchiche. Da questo punto di vista allora dobbiamo porci il problema di come affrontiamo questo nodo e direi secondo me vale la pena cercare di affrontarlo in due modi. Uno, accettando la logica della stringa. Se siete abituati alla stringa, io la stringa ve la do. La uso anch'io. Se guardiamo quello che è accaduto, ad esempio, in molti siti archivistici che possono essere considerati come dei riferimenti a livello internazionale, penso ai National Archives, penso anche a un sito come quello della Banca d'Arti sull'immigrazione di Alice Island, l'ultimo restyling hanno praticamente adottato la stringa di Google. Lì può essere anche molto semplice perché lavoro su nomi, però sono scomparsi dall'home page del search della Banca d'Ati i contenuti editoriali. C'è soltanto una bella stringa che dice ficca qui dentro un nome come arriva l'informazione. Quindi da questo punto di vista accettiamo la stringa della ricerca per parola, ponendoci però il problema di come puoi far andare oltre. E da questo punto di vista l'utilizzo di tutorial di stringhe che in qualche modo ambientano il navigatore e lo accompagnano nel muoversi all'interno di questo patrimonio, secondo me va assolutamente confermato. E poi lavorare alla produzione di tutta quella serie di possibilità di accesso alle informazioni che sono sottoutilizzate. Abbiamo già parlato di indicizzazioni, parlerei anche di soggettazione. Nella stragrande maggioranza dei casi i nostri contenuti non sono soggettati e da questo punto di vista invece dare delle indicazioni per tipologia di archivio, per tema, per parole chiave che ti permettono di accedere ai contenuti in maniera più amichevole per un utente non a bezzo è assolutamente una cosa che vale la pena prendere in considerazione. E poi lavorare su FAC, su raccolta di feedback, in prospettiva sull'utilizzo anche, il giorno che avremo la possibilità, di intelligenza artificiale o chatbot. A fianco di queste cose che sono di natura tecnica c'è l'aspetto della narrazione. Il modo per far entrare nei contenuti dell'archivio è quello di tirare fuori una narrazione, quindi di tirare delle chiavi di illustrazione che partono dal documento, dall'archivio, dalle guide tematiche che in qualche modo ambientano un utente facendolo entrare attraverso curiosità o di nuovo aspetti di interesse tematico che possono agevolare da tutti i punti del contenuto editoriale in cui si può creare un collegamento diretto e puntuale alla struttura gerarchica e alla navigazione dei contenuti del patrimonio, questo strumento è un buon modo per ambientare l'utilizzo abituale della cosa. Partecipazione anche in questa chiave e dal punto di vista della creazione di comunità, indicherei tre possibilità sulle quali stiamo lavorando. Uno, i percorsi tra le carte, l'illustrazione di documenti, la presentazione di archivi, la produzione di contenuti editoriali, aprirla alla partecipazione degli utenti, cioè non pensare che l'illustrazione di un documento o di un fondo sia solo riservata al dominio dell'archivista. Gli utenti possono e devono contribuire alla produzione di contenuti editoriali, evidentemente saranno valutati, saranno filtrati, saranno però, aprire a questa possibilità ritengo sia un approccio importante. E poi ragionare in termini di partecipazione alla schedatura, ad esempio nelle tipologie di soggettazione alle quali ho fatto riferimento prima, tipo di archivio, tema, li affiderei agli archivisti, le parole chiave, lascerei la libertà di proporre le parole chiave agli utenti. Questo perché? Perché l'archivista comunque attribuirà un tema di ordine generico, l'archivio di un ospedale gli darà un'attribuzione di archivio sanitario. Chi lavora poi dentro il fondo può trovare degli spunti per suggerire ad esempio che determinati pezzi di quel fondo possono essere utili per una ricerca sull'ambiente, sul clima, sugli stili di vita. Metterlo in condizione di poter proporre e suggerire questo tipo di accessi credo sia un modo per creare comunità e far sentire partecipe del progetto gli utenti. Scheratura partecipata ha anche coinvolgere su determinati fondi gli utenti perché contribuiscono ad aggiungere informazioni al contenuto delle descrizioni. In questa direzione faccio due esempi sempre legati all'esperienza che abbiamo con l'archivio di Stato di Torino, il progetto che ha riguardato la schedatura dell'esercito Garibaldino, dei 35.000 nominativi dei combattenti dell'esercito meridionale, quelli che partono da quarto arrivano i 35.000 al volturno e poi Garibaldini di Bezzè che in tutta una banca dati di 80.000 nominativi sta continuando a generare contatti. Alcuni degli utenti ci mandano delle comunicazioni che vanno a integrare le informazioni perché hanno dei documenti legati alla storia del bisnonno del Trisavolo che ha combattuto con i Garibaldini e ti mandano magari la foto del Garibaldino trasferitosi poi in California e le ultime parti della sua esistenza. L'altro progetto sul quale stiamo ragionando di avviare una schedatura partecipata è un fondo fotografico privo di didascaliere. L'intenzione sarebbe quella di aprirlo alla schedatura da parte degli utenti. Quindi se riconosci una persona, un luogo, visto che si tratta di un archivio di fotografie della prima guerra mondiale, un reparto, una situazione, aiutaci in qualche modo a costruire delle informazioni. Lavorare in questo senso nella direzione di creare comunità. Io ho finito, volevo solo lasciarvi due esempi, uno di lavoro di ricerca e l'altro di narrazione, di esempio di narrazione che mi piace molto. Quello di ricerca è il 15th century book trade, poi andatevelo a vedere. Un progetto che è sviluppato da Oxford, indaga la prima stagione del libro, la rivoluzione della stampa e delle modalità di diffusione della conoscenza nella seconda metà del Quattrocento. Concepito nel 2013 da Cristina Dondi, vede oggi coinvolte, mi sembra interessante per quattro punti, non li approfondiamo ma li accenno. Uno, recupero di materiali esistenti, sono partiti da delle banche dati esistenti, hanno recuperato queste informazioni e le stanno rilavorando. Da questo punto di vista pensiamo a quanti patrimoni abbiamo che hanno accumulato dati, notizie, informazioni eccetera eccetera che potrebbero essere rimessi in gioco. Secondo aspetto, partecipazione e organizzazione. in questo momento il progetto partito quattro anni fa vede 356 istituti coinvolti tra vari paesi europei e Stati Uniti, 160 redattori distribuiti nei 350 istituti coordinati da 5 ricercatori che costituiscono la rivoluzione centrale. I risultati nel giro di quattro anni sono stati di aver censito 13.731 edizioni descrittive su 28.500 edizioni complessivamente esistenti, quindi hanno schierato in quattro anni il 50% del patrimonio mondiale di imponaboli. Per un totale di 41.278 copie lavorate su 450.000 copie esistenti, quindi il 20%, descrivendo perché il progetto descrive per ogni copia la storia della copia dal momento in cui esce dalla tipografia alla situazione nella quale si trovavano, quindi copie in mano si individuano i possessori nel corso del tempo. E sono arrivati a descrivere 15.600 possessori. Anzi, ho visto che abbiamo dei tempi di chiusura del luogo. L'altra cosa che vi la segnalo soltanto è Refinking Gernica. Refinking Gernica del Reina Sofia, guardate come hanno lavorato sui documenti per costruire una narrazione. Vi faccio solo vedere come montano la pronologia. Queste colonnine sono le somme dei documenti, anno per anno, e attraverso questa visualizzazione accedete alle informazioni, all'oggetto e alla narrazione che si collega, creando tutte le connessioni che avete. Grazie.